la casa qui sotto è la casa come la sai la risposta? Maria Grazia Maria Grazia e Limoni Maria Grazia è la casa qui sotto questa scala c'è la casa qui sotto è la casa come la sai la risposta? Maria Grazia Maria Grazia e Limoni Maria Grazia stai guardando stai guardando però questa scala c'è la casa qui sotto è la casa come la sai la risposta? Maria Grazia Maria Grazia e Limoni Maria Grazia stai guardando stai guardando stai guardando Buonasera a tutti, ciao ragazzi, buonasera, buonasera, buona domenica a tutti quanti, come va, come va ragazzi, buona domenica, questa domenica di dicembre ci avviciniamo sempre di più al Natale, quindi questo significa ci avviciniamo sempre di più al mega contest di Natale, quindi mi raccomando, come va? Un grande saluto a tutti i ragazzi che ci seguono in chat su TikTok, benvenuti, benvenuti a tutti quanti, ma soprattutto un grande benvenuto a tutti coloro che ci seguono anche qui su Twitch, e quindi, saluti, ciao la nostra Erminia, ciao tesoro, ciao Sat, ciao Salabim, ciao Sorro, ciao Barbina, ciao a tutti! Ebbene sì ragazzi, stasera mi hanno lasciato da solo, tutti se ne so iti, tutti se ne so iti, ma vi rendete conto che roba? Io qui al chiodo a lavorare e loro in giro a fare vacanze, vi pare normale? Non c'è Alessandra, non c'è Lapicci, non c'è Isi, non c'è Mariano, non c'è, oddio, non c'è la nostra Nicole, non c'è nessuno, però, però, fortunatamente, ci siete voi ragazzi, ci siete voi. Ok, allora, dove sono andati a finire? Hanno fatto una notte a Napoli, con la luna e il mare, no, insomma, vabbè, sono andati a Napoli, hanno fatto il weekend a Napoli, hanno fatto l'8 dicembre a Napoli, e quindi, adesso, credo che siano in viaggio, non so se sono già tornati, però credo che siano in viaggio dalla meravigliosa Napoli, sono andati a fare un saluto al Mariangi. Peraltro, ragazzi, credo che il nostro sorro oggi abbia messo un nuovo sound, dei nuovi sound molto carini, molto particolari, che ricorderanno qualcuno che noi conosciamo molto bene, ragazzi, quindi andate a sbirciare, andate a sbirciare. Innanzitutto, spero che questa domenica... C'è Genji, ragazzi, c'è sound a letto di Genji, capito? C'è Genji, meraviglioso. Quindi, ragazzi, anche voi che siete in chat su... Che sei? Poesi spettacolari. Ah, assolutamente. E' un'altra parte di Canella. She's Canella. Canella. Questo è il nostro amico... Io non mi ricordo mai come si chiamano, dovete vedere, ragazzi? È meraviglioso, meraviglioso, ragazzi. Quindi, dicevo, anche a tutti i nostri amici che si trovano in chat in questo momento su TikTok, che noi salutiamo, vedo Ali, vedo Martina, vedo un sacco di persone. Se volete anche voi ascoltare i nostri sound alert e partecipare, interagire ancora di più, vi invito qui sul profilo TikTok Euforbia1981. È molto semplice, basta scaricare TikTok, creare un account e poi potete guardare tutti gli streamer che volete interagire. Ci sono in sound alert, potete parlare, potete votare, potete fare veramente un sacco di cose. Ma quello che andremo a fare noi questa sera, ragazzi, è ne... bene sì, visto che l'avevamo già detto precedentemente, durante i giorni che anticipavano, ovviamente, l'uscita della nuova espansione. Lucia, ciao, buonasera a tutti. Quindi, stasera va maluccio, perché il trasferimento in un altro paese mi darà soddisfazioni, ma al momento sono un po', un po' tanto giù. Quindi dico, io meno male che ci siete voi. So che la tua live mi farà passare del tempo senza pensieri, ma l'incontro. Allora, Lucia, ti posso... mi permetti di darti... di farti innanzitutto... Ciao Giovanna De Fazio, ciao! Di farti innanzitutto un grande in bocca al lupo. Credo che io, come molti altri che hanno fatto questo passo, ti possiamo comprendere al meglio. Io ho lasciato il mio paese, la mia bella Roma e sono qui in Germania. Allora, ci saranno delle cose che sicuramente ti mancheranno sempre del tuo paese, però ti posso garantire che come ti accrescerà, ecco, questa esperienza nella tua vita, te la porterai sempre nel cuore. E sono sicuro che molte volte avrai voglia di rimanere dove stai e non di ritornare in Italia, anche se in realtà la nostra bella Italia ci manca sempre. Ogni volta che andiamo ce ne portiamo via sempre un pezzetto. Quindi io ti faccio, Lucia, un grande grande in bocca al lupo e vedrai che andrà alla grande! E allora, soprattutto visto che andrà alla grande, questa sera ti dicevo come vi avevo anticipato la scorsa volta, prima dell'uscita della nuova espansione, che una volta uscita appunto l'espansione, avremmo arredato un... avremmo arredato appunto uno degli appartamenti che erano vuoti, proprio con lo stile di Tamarang, ok? Non so se peraltro qualcuno ha visto, ha avuto modo di vedere oggi su Facebook, sui vari gruppi Facebook, io ho messo anche delle foto di alcune, di due camere da letto che ho creato, perché abbiamo visto che c'è un solo letto, c'è un solo letto nella nuova espansione, e allora ho detto ma perché un solo letto in una così bella espansione? E come abbiamo scoperto durante la precedente live, quella del 7, dove ovviamente andavamo a vedere tutto ciò che componeva questo... No, amore, non devi piangere, vedrai, sarà un'esperienza meravigliosa, abbraccia forte, 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 forte tutti i tuoi parenti, perché non è un addio, ma è solo un arrivederci, perché poi tu ogni volta tornerai in Italia, e dici soprattutto dove vai di bello, vogliamo saperlo, adesso c'è un curiosito, eh, ecco. Allora, dicevamo, ho creato queste camere da letto, allora facciamo una cosa, decidete voi se volete vedere prima come ho fatto le camere da letto, oppure ve le faccio vedere, anzi no, facciamo una cosa, ve le faccio vedere all'interno della build, e allora io direi 3, 2, 1, andiamocene direttamente nel nostro gameplay, gameplay. Eccoci qui, amici, eccoci qui, eccoci qui, eccoci qui. Allora, 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 nel frattempo, nel frattempo, io mi apro la nostra New Crest, che era appunto il lotto, guardate un po', vedete, se io ci clicco sopra, diventano proprio come le case degli appartamenti che trovi a San Mianciuno, questi lotti dove ci sono appunto gli appartamenti, quindi si cliccherà il piano che noi decideremo di arredare o con il quale vogliamo giocare. Ora, noi ce ne andiamo qui, devo essere sincero, io prima stavo facendo un pochino di cosine, e un po' mi dava fastidio sta cosa che si vedono ancora, vedete qua le linee, tutte queste linee. Allora, come vedete, questi sono gli appartamenti al piano terra. Grazie, Ermi, grazie! Vedi, la nostra Erminia mi aiuta tanto anche questa sera, grazie mille, tesoro. E allora, al piano terra, dove c'era, questa era la casa dei nonni, questa è la casa della famiglia, sono vuote. Al piano superiore, questa è la casa degli studenti, questa invece è la casa del proprietario, la fa vedere stranamente arredata, ma non tutta, perché in realtà qui c'era il bagno, qui c'era la stanza. Come mai? Dove sono finiti? Chi lo sa. Va bene, lo cercheremo di capire poi, ok? Anche perché ho avuto dei problemi con dei salvataggi, alcune cose non me le salvava e quindi, insomma, un po' problema. Però non c'è, noi problemi non ce ne facciamo e ce ne andiamo direttamente qui, in questo lotto. Allora, qui ci faremo la cucina, il bagno, le due camere da letto e salotto, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, stai, aspetta, eh. Sono a Bruxelles, sono partito tre settimane fa, oggi è solo una giornata grigina, ma grazie davvero, qui mi sento in una sorta di porto sicuro. Ora pensiamo un po' a questa build. Va bene, Bruxelles è meravigliosa, peraltro, Lucia. Sì, il tempo, purtroppo, un po' come qui in Germania, è, ahimè, ahimè, grigio, ci dobbiamo abituare, ci dobbiamo abituare, però tu pensa una cosa. Quando è Natale, ogni tre per due, ti fai mandare dei bei pacchi dalla famiglia, pieni di roba buona da mangiare italiana e soprattutto portiamo un po' della nostra italianità all'estero e poi sono sicuro che ti farei un sacco di amici e gli potrai preparare dei pranzetti all'italiana come Cristo comanda. E mi raccomando, se ti chiedono la carbonara, fagliela senza panna, eh, perché questi qui sono fissati. Allora, andiamocene subito a selezionare direttamente il pacchetto, così cerchiamo di utilizzare nel, il più possibile, il pacchetto del, dov'è? Perché non me lo fai vedere? Ah, beh, certo. Scusate, no? Ah, eccolo. Non lo vedevo, scusate. Allora, togliamo la griglia. Non c'è Alessandra, ma togliamo la griglia. Se ti infasisci puoi cliccare col tasto accanto al bulldozer. Ah, sì, è vero. C'hai ragione. Brava. Bra, bra. Lo sai perché? Non la vedevo perché c'ho una scritta che è Medias di Cap Server, insomma, della webcam e quindi non la vedevo. Però bravissima, grazie. Vedi, vedi. Sei preziosissima. Preziosissima, tesoro. Allora, Uh, c'è anche Domenico di Mor che parte, è Domenico di Mor che è mio amico. Lui lavorava con me. Grandissimo amico, però altro, amore mio. Mi manca una cifra. Allora, amore, ciao, gengi. Allora, bella. No, vabbè, io e Domenico due pazzi, eh. Due pazzi. Allora, pavimento. Andiamo di pavimento un po' più scuro. Facciamola un pochino o più scura. Facciamola un po' con i colori loro. Ci voglio mettere i pavimenti Valentina, 1900... No, 1919, 19, perché 1919 è insomma un po', però 19, 19 facciamo. Ciao, cara, benvenuta. Bravo, amor, che ti senti meglio, amor? Ciao, Valentina, benvenuta. come stai? Come ci hai trovato? Da TikTok su Twitch o viceversa? Dicci, dicci, raccontaci, raccontaci. Allora, utilizziamo, utilizziamo un po' di colori, perché comunque è un kit bello colorato questo, eh. Allora, facciamo una cosina un po' carina, dai, facciamo una cosina un po' graziosina, graziosina, facciamola così. Anzi no, anzi no, facciamola proprio così. Ok. Mi piace questo verde, sapete ragazzi, mi piace una cifra questo verde e secondo me ci viene una cosa veramente bellina, guardate che bellina, già così, eh, è graziosa secondo me. Ciao, no, in realtà a Mo The Sims cercavo qualcuno da vedere per scoprire la nuova espansione e mi sei stato subito, grazie tesoro, grazie, benvenuta innanzitutto, eh, benvenutissima. Allora, cerchiamo, ovviamente come al solito non hanno, non hanno pensato a fare magari dei rivestimenti che potessero star bene, mi sembra giusto, ecco. Che ci mettiamo? Ci mettiamo rivestimento delle mattonelline? Madonna, che brutto questo ragazzi, però, eh. Roba da, eh, mettiamoci una cosa così, no, 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 brutto, 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 ecco, forse è più una cosa così, dai, mettiamo una cosina così, che tanto la facciamo abbastanza semplice. Ciao, Holly Icon, ciao, dalla, oddio, non capisco, non, come stai? Allora, Lucia, forse ci sarebbero bene le maioliche di frenesia e i fornelli, vediamo, andiamo, proviamo, voi consigliate ragazzi, è che a me piace quando, quando stiamo così. Allora, ma perché gioco base? Ecco perché. Ma infatti dicevo, ma perché c'era il gioco base? Ma chi, ma perché? Ma come mai? Ma chi lo ha detto? Infatti dicevo, ma perché non c'è sta tutta la roba? E infatti, oppure possiamo fare una cosa così? Madonna, però tanta roba, eh ragazzi, così secondo me. Allora, no, mettiamoci, dai, mettiamoci quelle di frenesia e fornelli. Allora, però sai qual è il fatto? Benissimo, sempre un pischello. Sì? Oddio, ma aspetta, io vedo, io riconosco questa foto, questa fotoprofilo. Oddio, non lo so, forse mi sbaglierò, ma una belenne qualcosa mi dice qualcosa, non lo so, però vabbè. Allora, io la farei tutta quanta così, mi piace sto verde, mi piace, amo sempre un pischello, sai che con me è eternamente giovane. Allora, utilizziamo, facciamo dei colori un po' chiari però, eh, che colori facciamo? La facciamo chiara sta cucina? come la facciamo? Ditemi un po'. No, no, mi rimangio il consiglio troppe maioliche insieme, infatti. Ciao, Verdiano, amore, come stai? Benvenuta. Ma quanti anni ha? 50. Maledetto, davvero mi conosciuto. Un saluto alla nostra Belen. Che non è la Belen che conoscete voi, è un'altra. Cioè, è rifatta tanto quanto Belen, ma è un'altra Belen. Ciao Lucia, come stai? Amo, come stai? Una cifra, eh? Che ci dici? Se sono fidanzati tutti e manchi solo tu, com'è sta storia, stai lì? Eh? Allora, 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 questo è quello nuovo. Ma dov'è la parte sopra uguale? Sarà questa? No, sarà questa. Sarà questa. Oh, qual è? Ah, è questa, è questa, infatti. Allora, facciamo così. Carina, ci piace, verde e marrone scuro sono due colori che stanno bene insieme. Io non volevo far troppo troppo scuro, sai perché? Perché questo colore qui mi ricorda questo marroncino che si trova qui nelle maioliche, capito? Volevo un po' riprendere questa cosa qui. Allora, ovviamente i ragazzi non hanno pensato a mettere anche un frigorifero decente, vabbè, damogli un tocco di modernità in questa build, va, facciamo così. Che io ci schiaffamo, qui, no, madonna, brutto questo, regà, no, non mi piace. Bianco questo, manco questo, no, no, regà, semplice, così e via è passata la paura. Un tocco di modernità, utilizziamo la build, andiamoci a fare anche leggermente un pochino più grande. Eh, Merdiana, tesoro, anche su TikTok, come stai? Allora, ecco, me lo sistemo per benino, per benino. Ciao, Vladik! Io, ragazzi, vi aspetto sempre anche qui su, dove stiamo qua? Ogni tanto mi perdo purino. Vi aspetto anche qui su Twitch. Che cosa c'è? Cosa c'è qua? Vabbè, questo è carino, dai, lo mettiamo qui, lo mettiamo, ci mettiamo questo e dov'è? Ah, è questo, dai, questo qua. Magari sposto leggermente, leggermente. Ciao a tutti, ragazzi, eh, io, io vi vedo, sono intento nella build, ma vi saluto tutti quanti, eh, tutti gli amici che si trovano su TikTok, TikTok, TikTok. Allora, allora, continuiamo, continuiamo, mettiamo anche questo qui e questo qui. Ok, perfetto, io la farei proprio così, e non è brutta, è carina, è bellina, dai. Ermi, oh, Fede, ciao tesoro, come stai? L'hai comprata la nuova espansione? Eh? Che mi dici, l'hai presa la nuova espansione? O diamo, andiamo di bianco, magari questo lo metto qui e utilizziamo la lavastoviglie. ciao Angelina, è entrato dai tuoi video brevi, ciao cara, benvenuta. Ah, ecco, questa è quella proprio nuova, quella sua, ok, facciamola così, facciamola così, facciamola, magari tolgo anche l'audio qua, così almeno si sente meglio, cioè, va meglio. Allora, dobbiamo utilizzare una, qualche, io credo, mi sembra di non aver visto delle nuove, infatti non ci sono. Allora, andiamo ad utilizzare una, metterei questa, va, sì, dai, metterei questa, la mettiamo qua, non troppo lontano, ok, ovviamente ragazzi, adesso che cosa facciamo? Impostiamo un pochino questa, eh, questa, ciao Donati, ho letto un pochino al volo, eh, che mi compare, la impostiamo poi i vari dettagli, le varie cosine, ce le mettiamo poi successivamente, perché altrimenti se dovessimo farla come solitamente la faccio io, finiremo l'anno del mai. Allora, no, questa non mi piace, mettere, no, manco questa e questo peggio che andate notte. Allora, facciamogli una bella cosa, noi gli lasciamo direttamente eh, un bel lampadario così per il momento, ragazzi, poi insomma, qualcosa ci inventiamo. Allora, io me ne andrei in camera da letto, che detta così pare veramente brutta, però la dire, andiamo in camera da letto, scusa? Ah no! Vero, perché questa camera da letto è stata assegnata a quest'altro appartamento, quindi questa casa avrà una sola camera, giusto? Una sola camera, ecco perché infatti dicevo, ma mi sembrava strano. Allora, ve ne faccio una, vorrei utilizzare un po' dei colori, un po' colori scuri anche, si intersega con il bancone o sbaglio? In che senso, Lucia? Allora, qua sopra non ce lo posso, cioè ce lo metto, ma siccome sotto c'è la lavastoviglia non me lo fa. Questi sono i lavandini che non ho capito una domanda, amore, sì, si intersega, sì, sì, ci sta, ci sta, si va, va sopra, va. Dicevo, vi faccio vedere una cosa un po' carina che ho fatto oggi, anzi no, vi faccio, facciamo una piccola velocissima pausa su questo appartamento, poi mi dite quale volete e io ve lo rifaccio. Aspettate che qui carica, intanto lo salvo onde evitare brutte e spiacevoli situazioni che faccio tutto stambardan e poi dopo mi perdo qualcosa. Allora, dicevo, oggi mi sono fatto due belle camere da letto che è detta così. Ciao Galia, eccolo qui, eccolo qui. Salam 7, ciao. Allora, eccole qui, due camere da letto ragazzi, molto simili ma in realtà diverse tra di loro. Questa è la prima, la numero uno e questa è la numero due. Allora, vi faccio vedere, ho ricreato questo letto ragazzi, molto semplice in realtà da fare senza tool, quindi questa è la cosa fondamentale. Come si fa? Ho preso il letto del gioco base, questo qui, poi ho preso queste che sono la guglia che si trova nelle decorazioni per i tetti con semplicemente col tastino con il punto che si trova sulla tastiera l'ho girata in modo da renderla parallela al letto, l'ho rimpicciolita di uno, sì, di uno, e poi con il nove l'ho alzata di due e ho creato e non ho utilizzato tool ragazzi, eh, quindi non l'ho aperta la tool e ho creato praticamente questo letto in questo modo, ok? Quindi l'ho messa ai quattro angoli. Questa parte qui dietro, questa decorazione qui dietro è sempre una decorazione per quanto riguarda i tetti ed è questa praticamente ragazzi, non è stata né ingrandita né rimpicciolita, è rimasta così com'è, abbiamo soltanto, l'ho soltanto tirata su con il nove in modo da creare una testiera insomma del letto testata testata testiera no testata è questa testiera del letto in modo da creare una testiera del letto a decorazione e poi in mezzo ci ho messo questa decorazione da muro bellissima che è questo elefante che la trovate appunto in decorazione da muro quindi mi sembrava molto 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 carina non so se vi piace cosa ne pensate insomma se è di vostro gradimento questa è per quanto riguarda la prima camera da letto poi ho utilizzato questi puff come comodini o in questo caso ho utilizzato questa console con lo specchio e poi insomma ho messo in coniezione ad ora le varie cose eccetera eccetera per fare questo non è un tappeto ma sono dei pavimenti e come dicevo la scorsa volta questi pavimenti vanno bene anche per ricreare magari dei tappeti secondo me molto carina poi da quest'altra parte invece ho fatto quest'altro tipo di letto ok con questa testata rotonda testiera no testata testiera ciao davvero con rotonda e che cosa ho utilizzato semplicemente un'altra decorazione da muro sempre per quanto riguarda la nuova espansione l'ho ingrandita di uno e poi l'ho alzata con il nove ed ecco qui che si è creato ovviamente adesso è sovrapposta e poi ho creato ovviamente questa testiera del letto al posto della console con lo specchio ci ho messo ovviamente un divano e qui invece ci ho messo il tappeto quindi insomma spero che vi piaccia spero che possa essere di vostro gradimento ovviamente la trovate anche in in galleria ok o no sì ma chi è questa le voglio voglio rubare il lavoro amore amore come stai sei arrivato a casa più che altro voglio sapere più che altro se sei arrivato a casa quindi ecco quale volete che riproduco in quell'appartamento la numero uno o la numero due adesso fai sondaggi è un bel problema io non li so fa da qua quindi voi scrivetemelo voi scrivetemelo che io vediamo quale facciamo se la numero uno quella con l'elefante oppure la numero due quella senza elefante slefantata slefantata allora io intanto me ne ritorno aspettate che salvo pure questo non si può mai sapere io me ne ritorno direttamente nell'appartamento la numero cinque si può vedere no non ce l'abbiamo è finita è finita Lucia dice la numero uno anche voi ragazzi su io devo parlare con Madeline immediatamente Matt devo parlare con Matt allora uno uno due mi hanno detto no uno guarda Ernest guardami sono tutta bagnata ecco scusate ma è una cosa che facevo con il cazzo no vabbè amo quanto mi mancano le nostre partite a palla a volo alla Roman Volley mamma mia per ora pareggio brava dai su dai ragazzi fatemi su 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 allora io intanto mi prendo il letto del gioco base voi decidete voi decidete che poi riproduce varia peperomia columella gente io sei você cultiva essa planta nella mia sombra non è essa mia sta non so rachando Brickbello questo è mio amico Brickbello Ale ti piace come sound meraviglioso shenshi la seconda camera noi la consideriamo cheap ebbene si la consideriamo cheap adoro vedi il letto è stagione non gioco base ah si oddio scusate perché avevo detto gioco base ero convinto oddio c'hai ragione dovete capire abbiate pazienza Luci c'hai ragione è stagioni è vero perché poi gioco base ospettate gioco base ovviamente gioco base dei letti di merda mi sembra giusto togliamo ciò qualche stagione c'hai ragione Pitchi la Pitchi è arrivata a casa eccola la Pitchi piccina Pitchi picciotta vabbè quindi la 1 la 2 che dovemmo fa Pitchi visto che sei arrivata a casa fa una cosa arvolo accenni il computer e fammi un sondaggio che qui mi sto a perdere abbi pazienza mi serve di sapere che in affitto no così la rifacciamo sì ma vorrei sapere chi ha riflesso in questo specchio mio dio è tornato sono una ragazza sei regina un po' sgualdrina principessa diavolo e sa no vabbè amo follemente no amore come faccio mi devo ancora spogliare lavare e mangiare uffa vabbè vedo me vedo vabbè quindi la 1 la 2 per ora vince la 1 ok la faccio la 1 dai allora facciamo la 1 la 1 la 1 la 1 che vi piaceva tanto facciamo la 1 vedo me vedo me donnatrice star amante fidanzata schiava madre vedo me la più bella che c'è sedutrice conturbante tu vuoi me tu vuoi me scusate ma è una canzone meravigliosa di un film stupendo un'icona praticamente ok vamos vamos ricreiamo questo meraviglioso letto ragazzi questo meraviglioso letto dai fai la 1 no che no che vuoi che cosa sta fai la 1 no ciao lica che colore facciamo madonna tutto marrone però no brutto tutto marrone bianco bianco no giallo così così mi piace sto colore quasi levo la griglia perché mi sta da fastidio pure a me stasera allora allora ecco ecco beh carina però così no non mi piace così ritiriamo giù ecco facciamola più così ok perfetto fai una colonna e via sì infatti poi faremo la colonna a sto punto vabbè diciamo che questa sta molto meglio se uno la mette è all'interno di una casa singola eccetera eccetera e magari lì c'è una colonna per una canna fumaria qualcosa che volete come decorazione questa quadrata che poi in realtà anche questa quadrata qua se noi vogliamo scala vediamo un po' 1.5 vediamo un po' ecco sì 1.5 potrebbe andar bene no opzioni impostativo come gruppo anche così non è brutta eh ragazzi come per il letto non è brutta per niente secondo me no è carina invece ci sta proprio bene molto bella vi piace di più mettici la decorazione così come per esempio copre lo proprio mettici un condizionatore brava brava Lucia vedi vedi che brava Lucia la luce ma ci sta la luce ah la luce la luce volete luce luce sia aspettate che vi mette le luci le luci le luci ecco e luci sia dicevo che volete questa pure che ci sta bene col fiore del lodo bella bella così vero col fiore del lodo dai stasera facciamola col fiore del lodo oppure volete questa decorazione qua col fiore del lodo ci lasciamo il fiore del lodo così eh dai lasciamola così che secondo me è carina dai facciamola lasciamola così dai dai sì poi decorazioni 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 meglio il fiore va bene allora ci mettiamo il fiore oh Ale di cazzi anche quando non è in live sì infatti è che gli mancava Ale ad Ale gli mancava cazziamme allora vai no mostra tutto mostra tutto aspettate che sposta la chat così posso fare mostra tutto ok perfetto ci prendiamo questi ci mettiamo questi qui che secondo me stanno molto bene ovviamente gli cambiamo la colorazione ragazzi facciamo una colorazione un po' più scura ok poi poi aspettate che sto vedendo comunque ragazzi anche il debug è meraviglioso ve lo dico ci stanno delle cose spettacolari eccolo poi poi ci metto pure la porta eh se no ci vanno con quasi questi qui dentro ok io ci metterei queste che mi piacciono un sacco ora le posizioniamo in questo modo eh grazie ovviamente all'aiuto degli amici di ready da da sogno dov'è grazie al nostro cubo magico al cubo magico eccolo qua facciamo così a così ok quindi questo lo prendiamo mettiamo qua questo lo prendiamo togliamo ecco fatto beh molto carina ragazzi eh dai molto carina poi ritorniamocene sul in affitto perché comunque è quello sul quale vogliamo concentrarci la lumiere benvenuto benvenuto benvenuta allora ah poi per altri condizionatori comunque ci dobbiamo mettere a prescindere eh ragazzi queste qua le decorazioni se ci metto questa ovviamente adesso le faccio diverse però le voglio ok magari le mettiamo un pochino più qua così questo così no mi piace di più dritta mi piace di più dritta mi piace mi piace di più dritta ok così magari cerchiamo di cambiare i colori oppure mettiamo qualcos'altro sì così mi piace di più molto carina molto molto orientale allora poi ci mettiamo questo lo specchio prendi lo specchio magico e poi ci volevo mettere ci mettiamo dai una poltroncina qua cerchiamo di riprodurre un po' quello che era qua accussi accussi ermellinda ciao cara ciao chile buonasera forse le luci da comodino un po' più chiare magari un colore tendente al giallo così stanno bene con il letto vediamo vediamo se abbiamo qualche colorazione un po' più chiara ecco forse è una cosa un po' più chiara così forse è più chiara così brava facciamole più chiare brava allora vediamo un po' no così no così no così no no è così 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 mi piace ok gli diamo di tappetangi tappetangi allora ora non so se mettere questo o questo qua con le foglie forse ci metterei quello con le foglie ecco un po' più così va così ok magari vediamo di trovare una colorazione che possa bella sta colorazione qua no così si perde allora questa qui un po' più colorata mi piace così almeno uno gli da un po' di colore riprende anche c'è questo arancio che riprende un po' anche la coperta questo qua questo qua secondo me ci sta bene poi poi la famosa gabbia degli uccelli ragazzi c'è termosifone scheggiato questo termosifone potrebbe essere scheggiato oppure quest'altro invece perché c'era quello che non funzionava vabbè ci mettiamo questo dai mettiamoci il termosifone così almeno funziona dove lo piazziamo però non so dove piazzare un termosifone io lo piazzo qua io lo piazzo piazziamo io qua il termosifone ecco un po' più scuro così metti la porta oh sì un attimo ora la metto la porta un momento un momento la porta la porta eh però queste sono quasi tutte porte d'ingresso principali ora non è che ci posso mettere porte d'ingresso principali oh sì eh sì non ci mettiamo le porte d'ingresso principali dai sono curioso di vedere una cosa ah vedete guardate ragazzi se io volessi provare a mettere la porta qui non me la fa mettere quindi bene bene molto bene meno male solo due porte quindi se ci limitiamo praticamente dove trovo le indicazioni per il contest di Natale allora tutte le indicazioni per quanto riguarda i vari contest sia quello che termina il 12 cioè domani no domani quanti ne abbiamo oggi dopo domani termina dopo domani il 12 martedì 12 ed è quello per quanto riguarda il fatto che vi avevo vi avevamo chiesto di creare un condominio da un minimo due massimo sei unità eh nel quale dovevate arredare ovviamente gli spazi comuni dovevate arredare il landscaping e un solo appartamento ragazzi e in quel caso e che poi ovviamente il vincitore si sarebbe portato a casa un kit a vostra scelta mentre per quanto riguarda quello di Natale vi chiedevamo di creare in un lotto 64x64 un diciamo una sorta tipo di di evento natalizio diciamo di mercatino di Natale insomma dove ci sia anche un palco e l'albero e ovviamente dovevate ricreare anche il sindaco o un maschietto o una femminuccia insomma quello che vi pareva in un contesto cittadino quindi non deve essere un parco entrambi i contest li trovate sul gruppo facebook ts4ita vita da simmers questo stesso gruppo facebook cioè questo stesso nome scusate lo trovate non solo per facebook ma anche per discord per telegram e per instagram e i contest sono pubblicati anche su discord quindi potete trovarli sia su discord che su facebook ts4ita vita da simmers ok allora 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 poi terminiamo qui di mettere qualcosina però magari possiamo anche un po' un attimo mischiare cioè non necessariamente deve essere proprio tutto ecco ci mettiamo magari una cosina del genere e volevamo mettere qualcosa sempre in affitto perché poi cioè è bello il letto quello loro per carità è bellissimo fa proprio pancare la camera da letto però insomma voglio dire avrebbero potuto anche volendo sbizzarrirsi un po' di più secondo me mettere anche un altro tipo di letto però vabbè insomma scelte 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 ragazzi sono delle scelte allora vediamo un po' ah questa la gabbia degli uccelli mettiamo la gabbia degli uccelli però la faccio leggermente più piccola ok la giriamo in questo modo a me serve devo capire però solo una cosa piazzo qui vicino al muro mi serve sempre il famoso cubo magico e va bene mostra tutto ok ci siamo ed eccolo qua ready da sogno cioè per me questa comunque è la salvezza ragazzi ve lo dico cioè se non c'è fosse sto coso qua non so come farei senza non riuscirei non riuscirei più ormai allora adesso mi serve aspettate che vado nel mostrotutto illuminazione ok forse ci metto dentro uno tipo di sticosi così che poi magari mi sa che è un filo grande quindi dovrei tipo rimpicciolirlo ok lo posizioniamo qua lo rimpicciolisco leggermente e poi ci piazzo dentro questa ti beccate questi spiccietti è un filo è ancora un filo grande quindi rimpicciolisco ancora un pochino ok e ci sta perfetto mi sa che dalla prossima espansione prendo vita in città e arredi da sogno beh regà io arredi da sogno non solo per arredare per fare le cose moderne però la utilizzo tantissimo perché sto cubo per me è una servizia anzi me lo lascio qua in modo che così allora io però andrei a togliere questa luce voglio vedere l'effetto beh è molto carino secondo me ha un bel effetto aspettate un attimo vediamo un po' perché io poi faccio sempre sta prova per vedere l'effetto del illuminato beh è molto soft un effetto molto soft ragazzi che dire ecco siamo andati troppo indietro beh molto carino dai fa un bel effetto fa un bel effetto devo dire ci sta ci sta secondo me ci sta bene secondo me ok torniamo rimettiamo luce pomeriggio ok allora adesso salotto andiamoci nel salotto oppure al bagno anzi no facciamo il bagno che il bagno ci manca allora bagno colorato ragazzi facciamo un bagno colorato utilizziamo sempre la famosa questa nuova espansione in affitto ovviamente soft è soft ma potrebbe fare l'effetto di gui sopra cioè non capisco qual è l'effetto di gui sopra quella sedia messa lì se ti alzi di notte e ci sbatti con il miliardi puoi far parlare tutte ma tanto guarda se è de notte e luci spenta la prendi comunque la prendi comunque sai che botta un dolore assurdo secondo me va bene allora io direi sala da pranzo la facciamo qui e qui ci facciamo il salotto però voglio fare una cosa vorrei comunque utilizzare sempre i toni no perché sto a fare sto muro qua ma che mi rappresenta via 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 allora vorrei sempre utilizzare i toni pastello quindi andiamoci sempre in affitto in affitto ci siamo ok utilizziamo però un'altra colorazione una colorazione un po' più un po' più questa perché questa è la camera diretta molto scura che colore facciamo il salotto ragazzi dai qualche consiglio anche voi su tiktok qualche consiglio facciamo chiara così la facciamo una tonalità chiara eh oppure la facciamo questa tonalità un po' cioè che buono non saprei neanche se è proprio bianco oppure giallina così sì magari se mo' seleziona sarebbe cosa buona e giusta oppure c'è tipo sto sto specie di crema che crema non è brutto eh non è brutto questo color crema secondo me ci sta anche abbastanza bene che dite allora a me devo essere sincero non convincono molto queste porte perché comunque sono delle porte che principalmente so da come porta principale quindi io direi che le cambiamo dai cambiamo ste porte perché secondo me non ci stanno bene allora mettiamoci delle porte semplici pulite lineari queste no queste so del coso giustace magari ci mettiamo questa ecco questa e questa e le altre le cancelliamo un po' rallentato sto gioco oggi ok sì dai ci mettiamo queste perché secondo me quelle non ci stavano bene date le porte scure andrei su colori più neutri chiaro così poi l'arricchisci brava infatti facciamo facciamo colori più chiari ok et voilà et voilà un po' lento oggi però va bene dai ci sta no ci sta no anche no però purtroppo ahimè se lo fa me lo fanno me lo fanno me lo fa così allora vediamo un po' un istante mondiamo mostra tutto vediamo un po' qua mostra tutto mostra tutto allora sicuramente utilizzerò queste sedie qui perché mi piacciono da morire ragazzi queste sedie so spettacolari me lo posso posso dire che sono spettacolari sì me lo posso dire allora ad esempio non hanno messo un tavolo da pranzo che strana sta cosa ah nel frattempo vi faccio vedere anche alcune cose del debug che secondo me sono meravigliose ci stanno un sacco tipo queste biciclette qui questo vaso ma poi anche questo bellissimo magari è un filo eccessivo grande però insomma ci sta molto bene anche questo che sarebbe la luce quella cioè il fiore dell'oto centrale poi che altro ci stanno no ce ne stavano dei cosette carine molte barche ci stanno stanno un sacco di cose carine sì sì allora perché il fiore dell'oto l'ammezzo anche no allora vorrei utilizzare questa tipo credenza e non so se me forse la piazzo qua ok ora mi devo trovare se rallenta ho notato che si riprende quando il pannello di salvataggio così magari salvi anche richiudendolo ah ok facciamo una cosa facciamo salva onde evitare che allora nel frattempo sono curioso in quanti di voi avete già preso questa nuova espansione oppure state aspettando eh di da verità state aspettando eh state aspettando che di partecipare al contest eh questo che cos'è libro maledetto libro maledetto rega ma dove stava il libro maledetto no vabbè ma che è tipo Indiana Jones l'ultima crociata che è una cosa del genere fantastico allora vediamo tavolo che tavolo ci possiamo mettere vediamo ah una cosa troppo arzigocolata no non mi piace devo essere sincero non vorrei una cosa troppo boh allora questo mi piaceva poteva essere carino però è troppo questo è il tavolaccio di legno vediamo vediamo eh vediamo cosa ci possiamo a parte che non mi serve un tavolo troppo grande potrei metterci in tavolo così vediamo se c'è una tonalità che si avvicina alle sedie ah magari potrei mettere una cosa del genere certo io ho preso subito l'espansione brava Franci grande questa non mi piace certo un po' un po' tremenda sta cosa però vabbè troveremo ragazzi troveremo vediamo un po' questo no eh pepepepepepe oppure semplice così l'unica cosa è questo semplice questo questo qua semplice così io direi che questa è l'unica cosa ecco pulito semplice ho già gli appartamenti divisi e distribuiti brava grande ma non me l'attacca come funziona queste cose scusate ah ok pensavo che non ma teoricamente ah ok 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 allora spostasi sposta tutto insieme ok metterei più qua sì facciamo una cosa un po' più così dai ci sta scusate ma che è sto coso sto coso nero ma perché il tetto è nero scusate ma perché il tetto è nero oh what no vabbè regà però c'è un debug sto coso ah no ecco c'è un buco pure no vabbè ma come gli viene no che non mi fa colorare no vabbè non ce voglio credere un milione di bug niente eh vabbè amen ciccia eh che vedevo di dai ermi dai che sono sicuro che se partecipi al contest di natale ottime probabilità dai dai allora ritorniamo al in affitto mostra tutto scusate che c'è sempre la chat qui mostra tutto allora sicuramente un una cosa che per il momento non andrò ad utilizzare è dov'è scusate i divani questi qua cioè non credo di utilizzare questo divano ma nel caso utilizzo questo divano ok tengo un po' la disposizione anche delle cose dei nonni ok cerchiamo un po' un attimo di trovare anche un po' la quadra in questa ok facciamo in questo modo scusate per vedere un attimo la griglia perché devo vedere un attimo la misura ok perfetto togliamo la griglia allora così carino eh è un po' scuro ok io farei così sì mi piace così è carino così è molto carino eh quando un qualcosa si aggancia vedi che parte verde dall'altro oggetto che si illumina sì infatti allora brava Ermi così ti voglio così magari ci metto questo comodino qua che è un pochino più grande uno e due ok facciamo così un po' un angolo tipo conversazione un po' così dai sì poi vediamo che altro c'è eh c'è questa più scura eh sì dai ci possiamo mettere una cosa del genere una console sul retro in modo da riempire un pochino le piante le piante le piante allora questa è bellissima secondo me e ci sta anche da dio un felcione proprio facciamo color 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 no questa qua poi abbiamo questa pure è carina magari un po' più grande si potrebbe mettere magari qua poi abbiamo delle altre piante che potremmo mettere magari qui così ok un po' di piante che secondo me male non fanno poi tappeto secondo me dovremmo ingrandire un pochino sto tappeto eeeh andiamo un po' ok troppo chi può dirlo adesso lo proviamo no no invece secondo me ci sta dai ci sta un po' di colore no l'unica cosa forse magari un altro tipo di colore no 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 allora o l'ultimo o questo forse forse questo sì forse questo qui dai fede ma due tavolini non sono un po' pesanti magari uno lo potresti sostituire con una lampada da terra dici vabbè lo togliamo magari lo mettiamo qui all'ing cioè magari lo mettiamo qui all'ingresso e ci mettiamo oddio regà non so ogni tanto io abbiamo un corpo sto coso non mi cattura le cose magari facciamo in questo modo qua vediamo dov'è 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 allora ci mettiamo magari questa è una cosa qui facciamo una piccola cosa per l'ingresso cos'è sta roba ah questa no non c'entra niente non ci serve il blu è più questo qua che c'è quindi lasciamo questo qua blu lasciamo eh lasciamo questo qua blu mi serve però qualcosa da mettere allora a parte mettiamoci sempre il un termosifone mettiamoci un termosifone dove mettiamo il termosifone qua mettiamolo qua il termosifone mo che ce l'abbiamo mettiamoci peraltro sono pure funzionanti why not e ok delle decorazioni da muro magari mettiamo questa qui ok allora curioso solo di vedere ok no troppo grande leggermente scala facciamo 1.2 vediamo un po' ok perfetto la giusta dimensione secondo me ok mi serve qualcosa per metterci il non so se una cosa un po' praia un po' così no no non mi piace questa cosa allora vediamo un po' queste lampade no mi fanno da negozio ah questo è da sbloccare mi fa piacere mi fa proprio 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 piacere non so se metterci questo mobile qui o quest'altro mobile no forse ce lascio quello che c'era che mi piace di più antea ciao sì sì noi ce lo mettiamo le lettere il telefono ce mettiamo pure magari un attaccapanni vediamo un po' eh allora facciamo in questo modo togliamo qua mi serve questo e mi serve questo vediamo un po' eh facciamo in questo modo ok poi colori sì questo scuro così dai facciamo questo scuro vabbè io lo mettiamo un televisore a sti cristiani insomma voglio dire ci mettiamo qualcosa ciao Jessica no questo sono a Newcrest perché avevo creato questo appartamento questi appartamento cioè sto condominio scusa non sto appartamento sto condominio a Newcrest e avevo detto che praticamente nel momento in cui sarebbe uscita la nuova espansione avrei praticamente arredato un no che scosta che avrei lasciato un appartamento libero per arredarlo con diciamo quasi interamente con la nuova espansione e quindi è questo quello che stiamo facendo abbiamo già creato la camera da letto eccola qui che ci siamo creati anche proprio il letto e abbiamo utilizzato quasi tutto il letto è di stagione quindi non di il gioco base perché me ero sbagliato invece no è di stagioni però mi è servito per poter arredare crearne uno anche ad esempio con questa testiera del letto che è col fiore di lodo che secondo me è bellissima che abbiamo ingrandita con un po' di tool Fede una domanda quando uso il debug poi come esco a non farlo tornare come era no aspetta non ho quando uso la tool ah cioè nel senso se tu selezioni un oggetto fammi capire Arminia nel senso tu dici se tu selezioni un oggetto poi come fai a deselezionarlo allora vabbè è molto semplice tu apri la tool non so prendiamo questo oggetto qui ok l'armadio io seleziono l'armadio e vedete che diventa verde ok fai quello che devi fare lo ingrandisci lo ruoti insomma fai quello che ti serve poi vai in opzioni imposta il gruppo come attivo in questo caso il gruppo si intende l'oggetto singolo oppure potrebbero essere più oggetti selezionati ok perché col tasto mi sembra shift e alt puoi no solo con alt puoi selezionare più oggetti vedi fai selezioni più oggetti quindi diventano verdi più oggetti comunque in questo caso fai imposta il gruppo come attivo e tutti gli oggetti ti ritornano normali poi prima di selezionare un altro oggetto se magari che non ti serve di modificare con la tool la chiudi in modo che così stai stai tranquilla non so se ho capito bene se era questa la domanda spero spero insomma di averti dato eh bravo cioè li copi si solo con altre infatti perché io ogni tanto cioè non li copio mai in realtà do sempre de uno quindi non so se era questa la domanda che volevi farmi ok allora 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 televisore televisore che dito lo mettiamo al muro televisore si dai mettiamo piazziamoglielo al muro qua il televisore ok e di che figura di tesoro per talmente poco ecco anzi se avete qualche domanda qualche dubbio incertezza plepestità dite 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 allora vediamo un po' che altro ci possiamo mettere ciao olivia come stai su tiktok ok aspettate andiamo un po' un attimo a vederlo sto debug vediamo un po' che ci abbiamo se ci abbiamo proprio perché abbiamo debug questo è sì magari se seleziono anche in affitto ancora meglio questo è il debug di in affitto e c'è questa la tigretta che è troppo carina no poi c'è vabbè il famoso libro maledetto il distintivo da ispettore di tigri vabbè sarà tigerman ok poi abbiamo oppure abbiamo modifiche in modalità vivi dove invece c'è tutta sta roba ragazzi ci stanno delle piante meravigliose rafkek benvenuto benvenuto benvenut un nuovo follower grazie per il follow come stai come si mette il debug allora il debug lo puoi mettere in due modi o utilizzando i cheats però onestamente io da un po' che non lo utilizzo in questo modo quindi non mi ricordo qual è la dicitura che devi inserire non so se magari qualche ragazzo in chat o ragazza in chat ti può aiutare con la dicitura però tu apri ovviamente oddio aspettate che ho girato aspettate che c'ha la tigre qui che tu fai copia io perché ho la tastiera in tedesco ctrl shift c vabbè ti si apre la barra qui in alto dove tu devi scrivere il codice per il il debug o ancora meglio o ancora meglio io ti consiglio di scaricarti questa che è la bitter build by perché cosa ti permette di fare la bitter build by che la dico meglio perché come prendono sempre in giro rough che la dico la dico sbagliata ti permette di avere tutto già in maniera organizzata ad esempio se tu poi vai una volta scaricata questa questa mod innanzitutto anche nella sezione kit non hai solo kit ma li puoi selezionare proprio quelli che ti interessano puoi addirittura anche copiare gli oggetti del del debug perché solitamente gli oggetti del debug quando tu faccio un esempio se tu inserisci il codice scegli questo oggetto e poi vai con la il contagoccia non te lo fa copiare mentre con la bitter build by ti permette di copiarlo ok ed è fantastico ma soprattutto la cosa fantastica è che tu il debug e modifiche in modalità vivi che fa sempre parte del debug ci li hai già all'interno della lista quindi io magari quello che ti consiglio vivamente è di scaricartela da direttamente da internet la fa maxismatch 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 scusate ma lo dico per bene perché vorrei di fregnacce la fa scusate twisted maxis la fa maxismatch è un'altra cosa twisted smatch la fa lui e quindi magari ti consiglio di scaricartela perché ti aiuta tantissimo veramente tantissimo oppure più facile proprio da per trovare le cose eccetera eccetera allora 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 vediamo un po' un istante dobbiamo continuare dobbiamo continuare allora aspettate che che se non mi si impalla tutto eccolo apposta ecco qui tool e bbb sono di twisted maxi brava lucia vedi infatti lucia ti ha aiutato devi mettere il lotto in generico premi ctrl alt c digitare bbb perfetto comunque vedi loro ti danno un sacco di aiuti io per quanto mi riguarda vado liscio direttamente con la bitter build by la bbb come la chiamiamo bbb infatti bbb questa qui allora continuiamo continuiamo abbiamo un pochino impostato il tutto e di che figuraci figuraci figurati figurati niente ragazzi stasera proprio si sente che ho una settimana pesante alle spalle ormai ormai praticamente sto delirando delirando letteralmente allora allora vediamo un po' io brava infatti favolose adoro ragazzi adoro allora vediamo un po' vediamo un po' volevo mettere fatemi trovare il vediamo 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 se lo trovo ok questo sicuramente mi serve poi e dovrebbe esserci mi serve questo ok magari ci mettiamo questa questa qui ok ma dove cavolo me lo trovo perché qui ogni volta me li perdo me li perdo i limoni signora signora i limoni questa qua magari anche una cosina così carina insomma un po' di decorazioni le sto buttando un po' così a caso poi magari le sistemiamo meglio anche questa io ci metterei magari piazzata da qualche parte tipo una cosa qua così che magari una cosa di libri ci può stare ok allora vediamo un po' non so se magari forse me la ritrovo qua forse me la ritrovo di qua allora 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 l'attacca panni l'attacca panni quando cerchi una cosa oh quando non te serve sta sempre in mezzo quando te serve ne la trovi mai vediamo poi capite perché io faccio le mie build da 6 milioni di anni per fare una build praticamente perché te lo metti lì a cerca a fare ecco già che ci stiamo torniamo pure un po' di cosette che ci servono e allora dovrebbe stata qualche pizzo qui qualcuno si ricorda no potrebbe no non mi piace questo però allora io so che c'è dovrebbe stata sti pizzi qui niente sto prende gli occhi che stanno scandagliando letteralmente dov'è 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 non so la stessa cosa la tool ti permette di modificare gli oggetti a tuo piacimento dimensione altezza rotazione mentre la bbv ti permette il move object Sempre attivo Bravo Giusto Cianfrusaglie Cianfrusaglie Io ci metterei Una cosa pure Tipo così Un po' Che mi sate Un po' De Scusate Sto a piazzare Delle cose Che trovo Ogni tanto Quando trovo qualcosa Oh niente Cianfrusaglie Andiamocene direttamente In Cianfrusaglie Do Vediamo un po' Se troviamo Ma voi per caso Vi ricordate Come si chiamava Boh io manco Mi ricordo Come si chiama A me mi sembra Che stava qua Eh Però In altro No manco Per niente Vabbè Boh magari Passiamo tutta una live A cercare Sto Sto benedetto Attacca panni Che poi avete capito Quale dico io No Attacca panni Quello Ma vi ricordo Manco Manco se era Del gioco Bate Boh Mamma Aspetta Cosa cerchi Lucia Cerco Praticamente L'attacca panni Quello che C'ha E giacchetta A peso Tipo Una cosa del genere Come lo chiamate L'uomo morto Come lo chiamate No l'uomo morto È un'altra cosa Aspettate Boh giro Le gambe stanno a fa Come dice mio marito L'occhi pupi pupi E Ciao Tattino Come stai Tattino Lo sai Tu lo sai Che ci devi far sapere Hai mangiato Tattino Hai cenato E soprattutto Con cosa Hai cenato Cerca attacca panni O spunzone Qualcosa del genere Vediamo Ecco Forse No Aspetta Vediamo un po' Ecco L'avevo trovato Regà No Boni Perché non me lo Eccolo Trova Cioè Tre ore Regà Tre ore Stava là Stava lì Meno male Meno male Meno male Che ci siete Dico sempre Dico sempre Meno male che ci siete voi Ok Facciamo così Questo lo posizioniamo Magari qui Così All'angoletto Ok Magari lo facciamo Leggermente più scuro Eh vabbè Fiamo scuro così Che è meglio Ma è l'unica cosa E questo Ce lo posizioniamo Sai Se può mai sapere Lì piove Fa freddo Allora è sempre meglio Avere la portata di mano C'è quello di stagioni Con maglioni Sharp Scarpe Sharp Eh questo qua Io cercavo proprio questo qua In piedi così Scrivete Scrivete a capare La ricerca Fai prima Giusto Giusto Infatti Grazie Jessica Ok Aspettate che Riposiziono Il tutto Volevo metterci Qualche altra decorazione Anche per quanto riguarda Tipo Se Aspettate Facciamo in questo modo In affitto Ok Mostra tutto Sì Mi senti Ok Perfetto Così Allora Volevo mettere Volevo mettere Volevo mettere Tipo una cosa Sì ovviamente Non così grande Anche no così Però Tipo forse Magari anche più piccola Dice che sono pazzesca Sarà il fascino Della tedesca Vuole uno spicchio Della mia pesca Frutta fresca No Come ho sentito Un plin plin Vediamo se c'è Comunque regà Sta fontana Cor drago È meravigliosa Cioè Peccato che non c'è Non c'è solo il drago Allora Questo magari Lo rimpicciolisco Leggermente Magari Questo Lo sposterei Leggermente Qua Così Questo magari Lo mettiamo qua Questo Lo togliamo Lo mettiamo qua In cucina Lasciamo là Che ci sta bene Ci piace Che altro Ci vogliamo mettere Delle decorazioni Da muro Ste ceste Qui così Non so Vediamo un po' Ma Ci potrà stare Non lo so Vediamo Noi ci buttiamo Le cose Che ci abbiamo Tra Quegli oggetti Stasera Costate al sugo E crocchette Di patate Niente Tatti Ce vai leggero Bello De casa Ce vai proprio Leggero Ok Ok Grazie Jessica Jessica Allora Allora Vediamo un po' Vediamo se Rimpicciolisco Questa E La Facciamo una cosa Vediamo un po' Magari Se io Voglio provare A fare una cosa Vediamo Se me la fa Tipo Tipo No vabbè Magari è un po' Alta Però Possiamo fare In questo modo Aspettate Eleva Meno Facciamo Uno 0.05 Vediamo un po' Di quanto scende Opzioni Imposto attivo Come il gruppo Aspettate Che devo fare Un controllo Perfetto Che dire Ragazzi È perfetto Perfetto Ok Ok Facciamo Così Vabbè Tipo Una decorazione Una Una statua Loro Non lo so Boh Una cosa del genere Secondo me Ci può pure Stare Ah Una lampada Giusto Prima Qualcuno Mi aveva Suggerito Una lampada Andiamocene qua Andiamocene qua No vabbè Perché queste qua Mi le devi far Sbloccare Vabbè Vabbè Fammi così In affitto Ok Io ci metterei Una cosa del genere Mettiamoci una cosa Più così Forse quella Che si sposa Un pochino Meglio A tutto il resto Magari Questa A questo punto La metterei Dritta Così Ecco No Funziona Ma i termosifoni Sono decorativi Vero No Tattim In realtà Adesso i termosifoni Funzionano Addirittura Funziona Anche quello Di Vampiri Che era l'unico Termosifono Attualmente Che avevamo Disponibile Ok Invece Così Adesso Funzionano 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 Praticamente Tutti Ah Sono uguali Sia a destra Che a sinistra Bene No È bello Sto vaso Comunque Magari Questo Lo rimpiccioliamo Leggermente Facciamo così Vedete che Forse questo Lo piazzo qua Mi ci va? Sì Ok Perfetto E magari Questo Lo riposiziono Qui centrale L'unica cosa Sapete cosa Secondo me È tutto molto chiaro Vorrei mettere Un po' di colore Almeno su sta parete Almeno su questa E questa Vediamo un po' Proviamo Proviamo Con un po' Di colore Proviamo Con un poco Di colore Un pizzico Di colore Allora Magari Il nostro Celeste Poi magari Se me lo facesse E beh Certo Allora Magari Non questo Celeste Magari Questo Giallino Qui Vediamo Ok Magari Facciamo Così Beh Diamo un po' Di colore Dai Un po' Vediamo Un'altra Cosa Andiamo Ok Vediamo Un po' Jumpy 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 Ah ma Perché ce n'erano Due Ah perché Avevo copiato Grazie Ecco Non lo so Non mi convince Però mi piace Questo colore Giallino Lo sapete Cioè Forse magari Rispetto a questo Bianco Ci sta meglio Sto giallino Almeno un po' Più calda La casa Sino Quel bianco Era molto Fredda Beh Comunque È una colorazione Dai Ci può stare Allora Vediamo un po' Vediamo Cos'altro Potremmo mettere Non so Perché ci stanno Queste cose Ah vabbè Facciamo così Leggermente Rimpiccioliti Leggermente Tanto li giriamo Rimpiccioliti Leggermente Dove sta Ah Ok E li piazziamo Qui sotto Dai Ci sta Così Dovremmo mettere Forse un tappeto Qua Un po' Più piccolo Magari Un po' Più qua Magari De un altro Colore Perché non Non li metto Tutti uguali Ecco Magari Un colore Così Che secondo me Ci sta bene Riprende un po' Sia il colore Del tappeto Principale Che Dei mobili De tutto Sì Allora Questo lo mettiamo Un attimo In bagno Questo Lo ricollochiamo Qui Io ho provato A diventare proprietario Di un appartamento Già arredato Ma non so Perché dopo Che l'ho comprato Si era svuotato Di tutti i mobili Oh Ma non è che L'hai Hai fatto Vendi i mobili Sicuro Datti Sei sicuro Datti Eh Datti Allora Sicuramente Io ci metterei Un ventilatore Che secondo me Ci sta tutto Voi lo dico Secondo me Ci sta Tutto Ecco Mettiamo Una cosa così Questo lo togliamo Mettiamo Illuminazione Così Così E Qua Ciò che siamo Qua Vai C'è più scuro Dovrebbe esserci Un po' Oddio No Anche forse Più chiaro Anche chiaro Non ci sta male Almeno riprende Un po' Il colore Del Sì Dai Secondo me È molto carino Così ci sta Vediamo se per caso Ci mettiamo Una Qualche Lampada Che volendo Potrebbe No Questa sua No Non mi piace Vediamo Ma non so Sicuro No No Lo lascio così Lo lascio così Che mi piace di più No Devo trovare Soltanto qualcosa Da mettere qui E Non so Se Metterci Fai Mostra Tutto Allora Non so Se metterci Magari Questa Che dite Beh Non ci sta Ma secondo me Non ci sta male Potrebbe Cioè Non necessariamente Io la vedo In camera Da letto Magari Ci si potrebbe Appoggiare Sopra Che ne so No Manco Ci stanno Manco Ci vanno Ho passato La domenica Da influenzata Ad arredare Un appartamento Con questo scopo E tu ora Mi dici Questa cosa Ecco Apposto No No Sono funzionale Funzionano come Le termosifoni Di stagioni Ok Tattino Hai creato Tipo uno Scompiglio All'interno Del Da chat Te lo dico Cioè Questa storia De Che non funziona Ci hai fatto Piancorpo A tutti Praticamente Allora Che ci posso Mettere Qua davanti Che ci posso Mettere Qua davanti Vediamo Un po' Vediamo Un po' Vediamo Un po' Magari Magari Questa Mi sembra Un filo Grande Sì Non Non ha Un senso Questa cosa Quindi possiamo Anche Toglierla E torniamo Con le cose Andiamo Un po' Qua Oppure Forse Potrei Andiamo Un po' No Non credo Che ci vada Sopra Però Io ti posso Fregare In questo Modo Vediamo Un po' Dove Eccoti Qua Ah Ecco Sì Dove sta Sto Coso Scusate Ma che Io A volte Ti prendono Ma chi La vuole L'unità Abitativa Nascosta Ma perché Ok Ok Comunque Raga Ce n'è Sempre una Ciao Manuela Ok Perfetto 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 Ok Direi che si può Fa Però Così Non ne posso Ave due Di sti cosi Devo trovare Qualcos'altro Da mettere Ma scusate Mi fate Vedere una cosa Ecco Forse Teoricamente Adesso Mi dovrebbe Ha sbloccato Tutto Teoricamente Aspettate Vediamo un po' Mo Ve lo dico Mo Ve lo dico Ve lo Sì Infatti Infatti Mo Ce l'ha Sbloccato Ok Perfetto Mi piace Forse Ce l'ha Quei cosi Bloccati Molto Carino Sì Decisamente Molto Carino Ma special guest Chi sarebbe No Io Me medesimo Io me medesimo No in realtà Ammetto Cioè Per preparare Tutto quanto Ho dimenticato Di cambiare Il titolo Alla live Eh vabbè Succede Regà Succede Allora Mettiamo Che ore sono 2301 Ci manca Di fare Il bagno Vabbè A grandi linee L'abbiamo arredata La casa Poi vabbè Mancano dei quadri Delle decorazioni Però insomma Ci sta Dai A grandi linee Ci sta Magari sai che faccio Metto pure un altro Coso qua Che secondo me Gli ci sta bene Ok Vediamo un po' Comunque ragazzi Secondo me Dovranno riparare Una marea Di bug Perché ce ne stanno Proprio assecchiate Secondo me Ah certo Succede tranquillo Sì no Mi sono proprio scordato Sono rincoglionito Abbiate pazienza Che poi voglio dire Non è una novità Quindi Cioè che sono rincoglionito Ovvio Allora 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 Bagno Dai Facciamolo questo bagno Andiamoci a prendere Sempre Il nostro In affitto Ma non ci serve Il pavimento Allora Come vogliamo farlo Così No vabbè Adesso Dove vai Allora Che colore Che colore Sempre sul verdino Comunque devo dire Che Si sono impegnati Tanto Nei dettagli Farei notare Lo scottex Attaccato al pensio Nella cucina Sì assolutamente Sì Infatti l'ultima volta Lo dicevamo Anche in Durante la live È una cosa Molto 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 carina Mi piace tantissimo Sta cosa Assolutamente Sì Mi piace un sacco Comunque Ricordo Anche a tutti i ragazzi Che si trovano In chat Con noi Su TikTok Che Ci potete trovare Anche Qui su Twitch Ragazzi Quindi se volete Siamo anche Qui su Twitch Ed è sempre Euforbia 1981 1981 Allora Vediamo un po' Un istante Troviamo Troviamo Qualche cosa Che possa Abbinarsi Ecco No Questo orrendo Questo non ci piace Questo è brutto Poi Vedete Questa cosa Anna Anna Mmm Mmm Eh Così Potremmo fare Una cosa Sì Vabbè È simile Alla cucina Però Vabbè Amen Ciccia O che Vedevo Di Avranno Comprate Maionica In blocco Ecco Facciamo Così Immaginiamoci Che se sono comprati Salva che Non si sa mai Sì 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 Brava Giusto Salviamo Ma brava Te so Che io proprio Madonna Roba No Che poi Non sapete Che mi era successo Mi era tipo Ehm Non lo so Quello che ho toccato Perché insomma Faccio danni Come al solito Però Praticamente Mi era andata a finire In una sezione Del computer Nel OneDrive Tipo Una cosa del genere E non riuscivo A ritrovare Tutte le cose Che avevo fatto No un casino Regà Un casino Voi lo giuro Non dico Un bordello Fotto Come al solito Però va bene Però Tutto che si è Tutto ciò Abbiamo Siamo riusciti A risolverlo Ciao Luna Milons L'ho detto bene L'ho detto bene Spero di sì Allora Mostra tutto Mostra tutto Mostra tutto Allora Vediamoci questo Allora regà Io già ve lo dico La turca La metto Abbiate pazienza Ma proprio Andiamo a posto Vai Gli metto Un bagno Normale Ecco Gli metto Proprio un bagno Normale Però gli metto Il suo Lavandino C'è qualcosa Con Allora mi piace Questo 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 lo trovo Molto carino Guardate quanto è carino Questo lavandino E potremmo Metterci Ecco Magari c'è la doccia Ci possiamo mettere La sua doccia Però 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 La doccia Magari la mettiamo Qui così E noi Come facciamo sempre Grazie al BB Move Object Gli Facciamo Oh ecco Così sembra Che praticamente Le maioliche Della doccia Sono le stesse Del Insomma Del bagno Stesso Ecco Così Guardate che bellino Ci sta È molto carino Dai È molto molto carino Oppure Aspettate Vediamo Ecco Forse così È meglio Perché ha Il bordo Nero Come il bordo Del lavandino Perfetto Adoro Fantastico La turca Fa molto bagno Di autogrill Dunque Per cambiare colore Rapidamente Prima di posizionare L'oggetto Premi più E cambi colore Direttamente Dalla tastiera Ah Brava Vedi Lucia Brava La nostra Lucia Brava Brava Ci do sempre Un sacco Di consigli utili Lucia Brava tesoro Grazie mille Però Però Mi sa Che io invece Faccio una altra cosa La doccia La sposto Di qua Ok Questo Lo posiziono Qua Ok In modo che Così almeno La doccia Loro entrano Da qua Perché se Entravo da qua In modo che Qua io ci posso Posizionare Il Il vater 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 Insieme Dalla turca Dai Che poi Primo vaso Da notte Da bambino Savus Ciao Benvenuto Su tiktok Cioè a me Mi sembra Un vaso Normale Ci mettere Una pianta Dentro Uno Io lo ingrandirei Leggermente Ci mettere Una pianta Dentro Però Non vorrei Che poi Sì Mi ci vanno A fare La cacca Lì Capito Quindi Meglio 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 Di no Meglio Non Rischiare Meglio Non Rischiare Ok Questo qua E poi qui ci mettiamo Magari qualcosa Allora Però Secondo me Come specchio Sì Potrei Metterci Quello Classico Su Però Vorrei Dai Un tocco Un pochino Più Carino A sto Bagno E magari Io ci Piazzerei Questo Guarda Ecco Secondo me Più carino Dai Un tocco Di modernità Un tocco Proprio Un QB Un quanto Basta Senza Esagerare Senza Esagerare Ok Magari Così Sì Ok Beh dai Bellino Sto Bagno Alla fine Pensavo Peggio Ciao Rosa Nera Benvenuto Tesoro Come Stai Questo Forse Utilizzerei Questo Carino Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Ma che per caso Ah no Aspettate Mi fate vedere una cosa Giusto per curiosità No Se ci sono Dei mobili Il mobile Dello stesso colore Ma non credo No A parte che poi è più alto No no Brutto Brutto Via 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 Non ci piace Così Così Dove sta Dove sta Dove sta Una cosa scura Ecco Allora Magari la rimpicciolisco Perché mi sembra un filo eccessiva Però Magari Volendo Uno Potrebbe Ecco E l'altro La posizioniamo Qua Ok Che per caso Ci sarà qualche altro colore Un po' più scuro Forse così Forse scuro Lo farei Sì Mi piace di più Un po' lanterne rosse Ok Perché questo Secondo me È bello Però Non so Mi sembra un po' grande Se non dovrei rimpicciolire pure questo Vediamo un po' Vabbè dai Oddio Non è brutto È carino anche così Forse ce lascio questo Sì dai Ce lascio questo Madonna Spara sta luce Però Allora Facciamo così Andiamoci proprio sul bordo Così almeno siamo sicuri Madonna Questa precisione Se facevano tre piani Per lavare i piatti Figurate se non farebbero Anche infatti C'hai ragione Lucia Ma anzi che Meno male Adesso possiamo Selezionare il lavandino Diciamo la destinazione d'uso Del lavandino Perché sennò Altrimenti Questi lavavano i piatti al bagno Con tutto che c'avevano Il lavandino qui Loro andavano al bagno A lavare i piatti Carini loro Sempre Sempre molto Furbi Sti sim No Madonna Brutto Sto cosa No Non piace Perché Perché Mi piace Perché Non c'è Mai Niente Che mi piace Ecco Ci potremmo mettere Una cosa del genere Anche No Mi fa impazzire Mamma mia No Via 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 Andiamo a cercare qualcosa Nei tavolini Magari ci mettiamo qualcosa Che possa essere un po' più carino Ecco Dai Facciamo un po' scicchettoso Sto bagno E Torniamocene un po' Qui 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 E Dov'è Mettiamo qui Magari delle Delle creme Ok Poi abbiamo Magari Dov'è quella Eccola Eccola qui Vediamo un po' Facciamo in questo modo Spostiamo qua Questo Me lo fai spostare Un pochino E Quando mai Beato a te Sì L'allero Te lo fanno spostare Proprio Sì Ma è una gioia Ovviamente Ecco Ti Pi 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 Dov'è 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 Eccolo Ecco Magari un po' così E la matita Dai Mettiamo la matita Che poi secondo me Non è una matita Per gli occhi Che dite Sarà una matita Per gli occhi Secondo voi Secondo me No Non è una matita Per gli occhi Allora Un po' troppo Un po' più vicino Così Così E E Accusi Oh Ecco A posto Un po' incasinato Sta cosa Però vabbè Dai Ce sta Ok Dai Ce sta Su No Magari questi Rimetto originali Così Che mi piaceva di più Almeno fa un po' Di tonalità Di colore Ok Così Capite perché ci metto una vita Io a fare le cose Erminia Buonanotte Grazie ancora per essere stata con noi Tesoro Spero che ti siamo Spero di esserti stato di aiuto Anzi che tutti ti siamo stati d'aiuto Perché Sono tutti favolosissimi Eh Sì Magari metterei Una bella pianta Dai mettiamo Le piante loro Che ci piacciono tanto Sono belle ste piante Allora Questa è un filo grande Però Uno se uno la rimpicciolisce Secondo me Sì ma Va rimpicciolita anche parecchio Almeno di due Due volte Perché Sennò Un catafalcone Però ci sta È molto carina Così Così Bianca Ecco Così perfetta Dio sto E poi E poi E poi E poi E poi Che E poi che Ma sta cosa qua Non ho capito che cosa Sarebbe Ah no E poi apri la bandiera Rubinetto Non capivo Dico ma che è sta cosa Allora Vediamo 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 Allora, potremmo trovare questa rimpicciolita, sì, magari in questo modo, gli abbassiamo un po' di tonalità e io la porterei a un 85, ok, sì, perfetto, vai, sì, dai, ci sta, bene o male ci sta, si può fare, si può fare. Magari mettiamo, io metterei un ventilatore anche qua, magari non proprio sopra il letto, se no gli è pian corpo purelli a questi e ci piazziamo dentro anche qui magari una bella luce in modo che così almeno abbiamo l'appartamento illuminato anche non avendo messo il, eccolo qua, eccolo, ecco, vedete? Sì, così è decisamente più illuminato. Beh, dai, è carino, si può fare, si può fare. Allora, cerchiamo di fare un attimo il punto della situazione, vediamo un po' che cosa abbiamo fatto perché siamo un po' in dirittura d'arrivo. Allora, abbiamo arredato questo appartamento, ci vogliono un po', però io ce li metterei due tende, ragazzi, perché altrimenti senza tende, cioè, ci stanno nel gioco, utilizziamone, magari mettiamo quelle classiche dritte, non quelle arricciate, ecco. Cioè, tanta roba, eh, raga, cioè, effettivamente sono tanta roba. Io l'unica cosa che non ho mai capito è se per caso cadesse il mondo io mi sposto un po' più là, sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. No, mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Vabbè. Queste, dai, queste qua, dov'è? Che magari riprendono un po', madonna, brutte comunque le casse d'ende. Ok, aspettate, un po' più scuro. Scuro, 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 scuro un par di ciufoli. Ok. Così. Sì, dai, ci sta, ci può stare, dai. Eh, che ne dite? Si può fare? Dai, vediamocelo un po'. Leviamone un attimo sto coso da qua. Vediamocelo un po', attiviamogli un po' il... Il G-Shade. No, il R-Shade, scusate, io so ancora... Ok. Vediamocelo, vediamocelo un attimo. Andiamoci a fare un girino. Un girino, sì, un giretto. Andiamo a fare un girino. Eh? Vediamo, vediamo che cosa ci dice, cosa ci ha ispirato questo appartamento. Ah, poi ovviamente, ragazzi, la prossima volta creiamo pure la famiglia, eh, anche perché abbiamo creato i nonni, i loro vicini, i ragazzi che stanno al piano di sopra, il proprietario di casa. E ovviamente adesso dobbiamo creare coloro che ovviamente si sono andati a trasferire in questa unità abitativa. Allora, siete pronti? Ci facciamo questo piccolo home tour? Dai, vai, entriamo, vai ragazzi, entriamo. Andiamo a vedere che cosa... Come è uscita sta casa. Oh, allora, a parte non guardare i detti, non capisco perché è così. Vabbè, sorvoliamo su questa cosa. Dunque, questo è il salotto. Ci sta. Comunque lo dà questa, quest'area così, eh, del sud-est asiatico, no? Comunque con dei cimeli che loro hanno. Che dite? Ci sta, eh? Facciamo questo girino, sì, facciamo il girino. Basta che non ci trasformiamo in rane. Eh? Spostiamo le felci così. E andiamo in cucina. La cucina, debutere, mi ha dato soddisfazione. Non è male, ci sta. Potrebbe tranquillamente essere una loro... Vero, molto rentaleggiante. Brava, brava, è vero. È molto carina, molto carina. Ci sta. Il salotto, carino. Poi magari, adesso immaginate, ci metteremo qualche altra pianta, qualche altro oggetto. Insomma, abbiamo impostato un po' così a grandi linee, giusto per non lasciare vuoto e poi, insomma, cercare di dare un imprinting un po' più orientaleggiante, giustamente come dice la nostra Lucia. Poi, vediamo un po', vediamo un po', ce ne andiamo al bagno. Qualcuno deve andare al bagno? Io per il momento no. Però andiamo a vedere. Entriamo. E questo è il nostro bagno. Ok. C'abbiamo tutte le cosine loro. Sali da bagno, trucchi, la doccia, eccetera, eccetera. Questo bagno, questo mobile con questo lavandino mi piace tantissimo. Io lo vedrei bene anche... Sapete anche cosa sarebbe bello? Un bel ristorante orientale. Ma che... Dove mangi, che ne so, proprio la cucina del sud-est asiatico. Non solo giapponese, cinese, queste cose così. Proprio, che ne so, anche un ristorante marocchino, tipo, ci sarebbe bene nei bagni, questo tipo di lavandino, così. Secondo me ci sarebbe molto bene. Poi, andiamocene ovviamente in quella che è la stanza da letto. Il talamo nuziale di questi due ragazzi. Eccolo qua, il fiore di loto. Molto bello, ragazzi. Secondo me è molto bella sta stanza, eh. Posso dire che mi ha dato molta soddisfazione. Mi ha dato molta soddisfazione questa stanza, sì. Devo dire sì. Ovviamente poi ci sono le altre due opzioni. C'è quella con la... Con la ruota, con la mezza ruota e con la mezzaluna, insomma. E poi c'è quella con il... È veramente bello. Una casa così la vedo bene a Toysi Springs. Anche, anche, sì, sì. Beh, diciamo che questo... Questo kit sta bene anche a Sulani. Come dice anche sempre Alessandra. Poi, vabbè, voi immaginate adesso lì sopra tutti gli oggettini, le cose. Ci sta benissimo. Poi, anche in base alle colorazioni degli oggetti. Adesso abbiamo fatto tutto molto scuro. Però, comunque, voi immaginate che se utilizzate dei colori più chiari, potete sicuramente rendere la casa, va bene, anche in un posto di Mario. Tu giuro, mi stai nervi sto soffitto nero che io non volevo nero. Però, vabbè, non so perché non riesco a levarlo. Ma poi riuscirò in qualche modo a toglierlo. Perché non ce l'ha vinta lui, ecco. Quindi, ecco, insomma, questa era la casa. Devo dire che anche le piante che hanno fatto in questo momento con questi vasi sono bellissimi, eh. Veramente molto, molto bella. Mi piace. Mi piace questa cosa che in questa struttura moderna poi ognuno l'ha arredata come meglio gli piaceva. Quindi, come meglio credeva. E mi piace veramente tanto questa cosa. Allora. Facciamo una bella cosa. Per sicurezza, ovviamente, risalviamo per l'ennesima volta. Sì, questa espansione sta bene lusso nel deserto. Alcuni elementi di vita in città. No, vabbè. Amo follemente, ragazzi. Ve lo dico, amo follemente. Ok. Sono tornati tutti gli elementi salvati. Anche perché vi ricordo che pure i balconi dovete selezionare, capito? Poi quelli adesso non li abbiamo fatti. Però pure quelli vanno selezionati, ragazzi. Quindi, insomma. Non dimentichiamocelo, Genji, Genji. Non dimentichiamocelo. E noi, nel frattempo, ce ne torniamo. Eccoci qui. Alla schermata principale. Perché siamo stati insieme. Allora, devo dire, mi sono mancati... Mi è mancata Alessandro. Mi è mancata la Pish. Mi è mancata la... La Is. Mi è mancato Mariano. Mi è mancata Nikki. Insomma. Però... Devo dire che... Anche da solo posso dire... Me la sono cavata. Voi che dite, ragazzi, in chat? Me la so cavata pure da solo un po'? Sì o no? Non che questo significhi che non ci saranno più loro. Anzi, no. Mi devono dare la mano. Di varie peperomia. Columella. Gente, io sei. Voi scoltivano questa planta nella mia sombra, non è? Questa mia sta nel sol rachando. Columella. Questo, ragazzi, è il nostro amico... Brickbello. È Brickbello che mi manda gli audio. E che, ovviamente... Io che faccio? Me li salvo e ve li mando. Ve li metto come sound alert. Perché ci stanno benissimo, capito? Anche io qui un po'... Con la pianta, Genji. Con la pianta. Abbiamo dato una sfoltita. Abbiamo un po' spostato perché stavo un po' troppo dentro la giungla. Veramente, col macete per mettere a sede in postazione. Quindi non si poteva fare. Però, fortunatamente, insomma, siamo giunti, ecco. Anche questa serata. Fede, lo hai registrato tu, questo sound? No, amore, no. Questo è il sound che sentite. In realtà, è un botanista brasiliano. Molto, molto bravo. Che si... Veramente si esalta quando... Soprattutto quando gli mandano, che ne so... Il regalo delle piante, delle cose. Lui si esalta. Oh, mamma mia! Oddio, Shishi! E... È meraviglioso, ragazzi. È meraviglioso, veramente. Grazie, Lucia. Grazie per aver ridato colore a questa giornata grigio. Amore mio, però... Veramente, tirati su perché vedrai... Allora, innanzitutto, ti sei trasferita definitivamente, immagino. Quindi, non per un periodo. Olha che interessante. Sela Ginella è un parente da Samambaia, digamos assim, con un pochino di liberdade biologica. Sela Ginella. Cioè, Sela Ginella. Ad oggi in poi chiamatemi Sela Ginella. Ciao, sono Sela Ginessa. Potrei cambiare il nome del... Non più euforbia, ma potrei cambiare il nome in Sela Ginella. Potrebbe essere carino. Diceva la nostra Lucia. Su, 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 perché vedrai. Poi tu sei giovane. Quanti anni hai? Tu pensai che io sto passo l'ho fatto a 36 anni. Che io poi so decocco, come Dima Roma. Cioè, so decoccio. E imparare... Insomma, il tedesco non è proprio facilissimo. Beh, non male... Lì, magari a Bruxelles è più facile perché con l'inglese... Che lingua parlano a Bruxelles? Il bruxellese? Che lingua parlano? Non lo so che lingua parlano a Bruxelles. Però penso l'inglese. Quindi, insomma, magari è più facile. Poi sei più giovane. Tutto il tempo per imparare. E sono sicuro che andrà alla grande. Voto 100. Che poesi spettacolari. Che poesie spettacolari. Ecco. Vabbè, tesoro. C'hai 30 anni. C'hai tutta la vita davanti. Non ti preoccupare. Cannella. C'ho sentito. C'hai cannella, amore. Amore, c'hai 30 anni. Sei una cucciola. Ma non ti preoccupare. Vedrai che andrà alla grande. Andrà alla grande. Poi ci stanno un crogiuolo di etnie. De cose. Quindi ti farai amici di tutte le nazionalità. Di tutti i posti. E quindi vedrai che sarà ancora più bello. Perché veramente apprendi un sacco di cose da tante persone. Quindi io penso che sia l'esperienza più bella. Io non ho avuto l'opportunità di farlo. Perché forse nei miei tempi magari neanche c'era il concetto tanto di farlo. Però di andarmene quando ero più giovane. Almeno magari fare un periodo all'estero. Ok. Però io quello che consiglio, ragazzi. Sarebbe la cosa più bella. Se avete dei figli. Avete la possibilità. Mandateli all'estero. Fategli aprire le menti. Dategli la possibilità. Basta che non v'è al museo del cioccolato perché imbarazzo. Bruxelles è molto carina. Poi c'è un negozio. Poi c'è la famosa statua del bambino che fa la pipì. E poi c'è un negozio, ragazzi. Pazzesco. Che vende tutte queste cose. Che ne so. Del film, che ne so. Il Signore degli Anelli. Di Harry Potter. Ma vendono delle cose pazzesche. Che quando ci siamo stati con Teo Teo. Se voleva comprare il bastone. De Salomon. Sauron. Non lo so. Se voleva un bastone. Se doveva comprare. Ma tipo una cosa come 400 euro. Dico. Tu sei pazzo. 400 euro per un bastone. Ma poi ti c'è dovevo menà. Capito? Ecco. Però. E poi. Amore mio. Ma da Bruxelles. E' uno schiocco dei dita. Che arrivi. In Olanda. In Francia. Veramente puoi andare ovunque. Pensa a questo. Pensa. Pensa veramente che col treno. Pensa a quanto tempo risparmi. Non devi prendere l'aereo. Che te costa tanto. Vai col treno. Te puoi spostare ovunque. Veramente. Over the top. Over the top. Amore. Over the top. Vedrai che andrà benissimo. Benissimo. Me lo. Me lo sento. Me lo sento. Poi. Amore. Se ci sono riuscito io. Che torno a ripete. So così. Poi. Se ci vai ancora di più. Con. Una persona a te cara. Ancora meglio. Ancora meglio. Bene ragazzi. 23.28. Quindi praticamente. Siamo giunti al termine. In maniera precisa. 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 Giusto qualche piccolo promemoria. Per non dimenticare. Per non dimenticare. Martedì 12. Perché effettivamente. Oggi è domenica dia. Domani è 11. Quindi martedì 12. Live. Con. Le vostre palazzine. I palazzinari. I palazzinari. Eh lo so amore. Ti capisco perché ogni tanto. Capitano anche a me. Le giornate no. Le giornate malinconiche. Ecco vedi. Magari. Non vi dico questa. Poi. Veramente poi chiudiamo. Cioè nel senso ecco. So che. Eh Alessandra e Eleonora. Sono andati giù a. A Napoli. Eh se fossi stato lì. Mi sarebbe piaciuto stare lì con loro. Mi manca ecco l'interazione con gli amici. Perché poi ho lasciato tutto. E gli amici. La famiglia. Però sto qui con. L'amore della mia vita. Quindi per me va benissimo. L'importante che. Tanto ci dobbiamo prima o poi costruire una famiglia nostra. No quindi. Va benissimo così. Sto microfono prima o poi lo faccio volare. Va benissimo così. Va benissimo così. Sì le giornate notte lo dico sinceramente. Ce ne saranno migliaia. Momenti malinconici. Momenti di difficoltà. Però. Però vedrai. Vedrai. Perché ne sono sicuro al mille per mille. Che questo è l'inizio. Di una meravigliosa e splendida avventura della tua vita. Che ti porterà ad essere una persona soddisfatta. Da tutti i punti di vista. Perché? Perché avrai tante opportunità che ti faranno crescere come persona. Professionalmente. Insomma avrai veramente tanto 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 successo. Perché me lo sento proprio. Poi sei una ragazza in gamba. Anche se non ho avuto modo di conoscerti dal vivo. Però me lo sento che sei una ragazza in gambissima. Quindi vedrai. Vai alla grande. E vedrai. C'avrai voglia di andare in Italia solo in vacanza. Ma poi vorrai di ritornare a casa tua. Che sarà lì dove ti trovi in questo momento. Me lo sento. Detto ciò. Ti do. Tanto do un abbraccio forte di questa sera alla nostra Lucia. Perché sento che ne ha bisogno. Che sento che ne ha bisogno. Veramente. Allora. Detto ciò. TS4I da vita da Simmers. Il nostro gruppo Facebook. Discord. Instagram. E Telegram. Io ogni tanto mi perdo. Abbiate pazienza. C'ho una memoria a breve termine. Praticamente. Mi ricordo le cose a flash. Poi. Il contest. Martedì. Vediamo appunto. I vostri contesti. Condomini. Dai. So che siete dei piccoli Roberto Carlino. Oddio. Speriamo di no. Perché insomma. Non è il massimo. Però insomma. So che avete il palazzinaro in voi. Siete stati posseduti dal palazzinaro. Che. Va dato ispirazione. Quindi avete ancora tempo. Magari se qualcuno non vuole ancora partecipare. Perché vi ricordo che doveva essere un minimo due. Massimo sei unità. Dovevate arredare gli spazi comuni. Il landscaping. E un solo appartamento. Ma soprattutto ragazzi. Vi ricordo che. Che. Mega contest. Già. A parte no. Vi ricordo che. Chi si aggiudicherà il primo posto. Si porta a casa un kit. A vostro piacimento. Per quanto riguarda invece. Il mega contest di Natale. Contesto cittadino. Tipo. Mercatini di Natale. Insomma. Una cosa del genere. Ci serve un palco. Serve l'arbero di Natale. Dovete creare anche il sim. Che dovrà essere il sindaco. Maschi o femmina. Insomma. Quello che vi pare. Non un parco. Mi raccomando. Le regole le trovate. Sia su Discord. Che su Facebook. Quindi mi raccomando. Non mi ricordo. Fino a quanto tempo ci avete. Però insomma. Lo trovate sempre appunto. Su TS4. La vita appinta da Simmers. E che dire ragazzi. Questa live ovviamente. La potete rivedere sempre qui su Twitch. Oppure. Per un periodo limitato. Oppure. Diciamo. La trasportiamo direttamente. Su YouTube. Sempre. Euforbia. 1981. Quindi. Che dire ragazzi. Peraltro. Vi ricordo che su YouTube. Trovate anche. I video della nostra Alessandra. Che non è qui con noi. Questa sera. E vi ricordo che Alessandra. Tornerà in live. Dal lunedì. Al venerdì. Dalle 14. Alle 16. Sempre con Alessandra. Alle Oc. O 0 4. Vabbè. Alessandra Cello. Insomma. Trovate anche quello direttamente. Su TS4. Ida. Vita da Simmers. Su Facebook. Che dire ragazzi. Grazie. Tattino. Grazie. Grazie. Allora. Io mando. Un grande bacio a tutti. Un grande abbraccio a tutti. Uno un po' più speciale alla nostra Lucia. Perché stasera ne ha proprio bisogno. E con un grande grande in bocca al lupo. Io vi auguro innanzitutto un buon inizio settimana. E mi raccomando. Ne ci vediamo qui martedì. Alle 21 e 30. Per il contest. Io vi voglio regalare questo kit. Quindi mi raccomando. Ci vediamo. 21 e 30. Qui. Martedì. Su Euforbia. 1981. Voglio bene ragazzi. Grazie. Buonanotte a tutti. Ciao. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Del radio. C'è un funghetto. Tra la casa. Il funghetto. Tra la la. Due funghetti. Tra la la. Il recinto davanti. La pizza d'olio. Il recinto. Riccetto. La pizza d'olio. La pizza d'olio. Sbagliato. però questa scala c'è nel senso la casa il terrario c'è un funghetto tra la casa il recitto davanti il recitto